Facciamo una breve sintesi, in 5-6 minuti, dei punti salienti di questo volume che ritengo sia fondamentale da utilizzare anche nelle scuole. Grazie, è una grandissima emozione parlare di questo volume, soprattutto perché nasconde tra le righe quello che è il vero problema odierno. L'ospite che spesso viene visto come un problema è invece una grande opportunità, perché porta dietro di sé un vissuto particolare e arriva non con l'intenzione di rubare qualcosa, ma paradossalmente, e io questo lo posso attestare senza tema di smentita, perché per 14 mesi sono stato il loro direttore e per 14 mesi sistematicamente mi trovavo dei ragazzi che arrivavano e mi dicevano cosa posso fare. E ogni qualvolta gli si è data la possibilità di fare, di mettersi a disposizione, lo hanno fatto tranquillamente, senza creare problemi. Anzi, hanno contribuito al miglioramento sistematico e giornaliero di quello che, è bene ricordarlo, era il secondo centro d'accoglienza per importanza d'Europa. Quindi una struttura importante, una struttura nella quale convivono etnie, religioni e forme mentisi completamente diversi. Farli convivere serenamente è stata una cosa meravigliosa. Come ci siamo riusciti. Ma ve lo riassumo brevemente con una frase che ho voluto mettere nel retro del mio libro. Mi pare che si dice il quarto di copertina, una cosa del genere. Io sono completamente un neofita in questo settore. Questo libro dimostra che lavorando con amore si può creare un habitat ideale dove esseri umani provenienti da ogni parte del mondo possano vivere liberi, sentirsi uguali, condividere la quotidianità in modo fraterno utilizzando una grande dote, la tolleranza. Il mio più grande risultato è stato nel momento in cui i leader delle varie comunità che io incontravo regolarmente per verificare quale potevano essere eventuali esigenze o loro spunti per migliorare quello che era l'andamento del centro. Bene, il giorno in cui mi hanno detto grazie perché tu ci hai fatto apprezzare realmente il vero senso della fratellanza. Questo è importante anche perché si lega a quello che sta accadendo oggi, il problema dell'immigrazione dalle parti di casa nostra e anche particolarmente sentito. Forse c'è un rammarico, lo vogliamo ricordare, la mancata visita dell'ex ministro degli interni, l'onorevole Salvini. Sicuramente io in 14 mesi ho sperato vivamente e ho cercato in tutti i modi di poter avere una visita. Perché voglio ricordare che per 14 mesi comunque la mia attività, l'attività del centro, è stata posta sotto lente di osservazione da parte delle istituzioni. Come è giusto che sia in questi casi. Mancava solamente la visita del signor ministro del tempo per certificare definitivamente che il modello che noi avevamo creato, posto in essere e realizzato nel centro, era un modello vincente.